Le sigle sindacali esprimono il proprio dissenso per le misure fiscali assunte dall'amministrazione di Pescara. Il 19 settembre era stata annunciata una manifestazione per denunciare l'assenza di tavoli di concertazione tra sindacati e giunta nel difficile momento di presentare le misure economiche da applicare nei confronti dei contribuenti per sanare il tanto citato buco di bilancio di 4 milioni di euro. Il tavolo poi c'era stato, la manifestazione era stata congelata e oggi invece tutto da rifare. Le richieste non sono state accolte in misura soddisfacente e si scende in piazza. Oggi siamo qui per continuare a sostenere quelle che sono le nostre rivendicazioni. Indubbiamente la delibera sull'IRPEF è andata, però noi continuiamo a sostenere che questo è il bilancio 2013, bisogna pensare a quello che sarà il prossimo bilancio e poi sul sociale sicuramente devono trovare ora le risorse perché noi abbiamo la fascia dei pensionati e dei disabili che vanno assolutamente sostenuti, così come abbiamo sostenuto precedentemente. L'inalzamento dell'esenzione IRPEF alle famiglie con reddito inferiore ai 16 mila 40 euro è una vittoria senza dubbio, ma, dice il rappresentante Cigiele, ci si aspettava qualche misura anche per le fasce intermedie. La nostra richiesta rispetto all'IRPEF era quella di mantenere la fascia di esenzione fino a 15 mila euro, dopodiché prevedere una fascia intermedia da 15 mila a 26 mila o 28, su cui non si scaricasse immediatamente il raddoppio dell'IRPEF a 0,80, ma prevedere o lo 0,49 o un'altra formula che consentisse non un raddoppio così forte. Avevamo anche chiesto di trovare le risorse per quello che riguarda le politiche sociali. Grazie.